Carry on my wayward son Gli spoiler più clamorosi quindi per carità non guardare questi video Se non hai già visto la stagione Però io spero che, noi speriamo, che possa essere un'occasione divertente per aprire il dibattito Alla vigilia e in arrivo della ottava stagione Quindi speriamo che ti diverta Questo viaggio per le stagioni di Supernatural Quindi via, guarda la prima stagione di Supernatural E se non l'hai ancora fatto sbrigati A partire da adesso Grazie a tutti